In Abruzzo mancano 100 medici di base e oltre 60.000 cittadini abruzzesi sono senza la copertura del proprio medico di famiglia. Oggi in Commissione Sanità ho presentato una risoluzione sulla base delle indicazioni che arrivano dalla base e quindi dai medici di base, in maniera particolare dalla Federazione dei Medici di Base per consentire un passo avanti circa la risoluzione di questi problemi specifici, ma purtroppo la Giunta regionale ha voluto bocciare questa risoluzione. L'arroganza della Giunta regionale è evidente a tutti, dopo quattro anni di assenza su questo tema, anche per quanto riguarda i medici di famiglia e quindi l'assistenza diretta dei medici di base delle nostre famiglie, oggi hanno perso un'occasione di confronto importante. Io voglio ringraziare i colleghi della minoranza, il Presidente, ma soprattutto voglio ringraziare la Federazione dei Medici di Base della provincia di Terra ma dell'intera Regione Abruzzo perché vogliono portare avanti quest'azione di miglioramento delle prestazioni dei medici di famiglia circa la copertura sanitaria territoriale. Speriamo in un ravvedimento da parte della Giunta regionale, in maniera particolare dell'assessore Verì.